In fondo siamo anche noi così simili alla prima generazione cristiana che non riusciva ad affigurare la croce. Noi non la vogliamo vedere, la nostra generazione la nasconde, la rende virtuale e poi alla fine si arrende fatalisticamente, prima credendo di rimandare e poi non sapendo come combatterla. La croce lo giudica, salva, è per tutti e ognuno sente quanto è amata la sua vita da un Dio che non si risparmia, che non salva se stesso, che ci libera dal vero peccato originale, quello del salvare noi stessi e di pensare di dover far da soli. Essa ci aiuta anche a capire da che parte stiamo. Dette a via!